L'arbitro indica chiaramente la rimessa Prova a superare la difesa con un filtrante Ha dettato bene il passaggio con un bel movimento sulla fascia Pallone razotera in aria Innoche! Bruh Splendido dribbling qui, gran giocata Riceve bene Kulusevski Kulusevski! Ci arriva di nuovo E colpisce il palo Parigini! Se ne va! Bella parata di Ter Stegen Che leggerezza! Tenta nuovamente! Poi! Non sbaglia! Si era creata una buona occasione col dribbling Però non l'ha concretizzata Aveva fatto tutto alla perfezione Ma forse gli sono mancate le energie Terzo tiro dalla bandierina per loro Soltanto uno battuto dagli avversari La parola va sul palo! Campo davanti Da una parte all'altra del campo Di certo non ci si annoia Sceglie di andare per via verticali Beh lui non rende le rischi inutili in difesa Fa avanzare la manovra Darwey La toglie dalla porta Palla vagante Non si passa! La butta via Non trova Unica quattro minuti di recupero Sarà rimetto Qui c'è il Chagatino È un grande riflesso qui Ci sono andati vicini Ultima azione della partita Non c'è più tempo Finisce qui E certo non fa piacere questa sconfitta La butta via